Ciao a tutti amici di Crash TV e benvenuti in questo primo video su Minecraft Oggi siamo su Fortnite Mi bello che mamma Oh no 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 Oh no 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 Un anno fa ho aperto questo canale Non mi sarei mai aspettato di raggiungere i traguardi Che abbiamo raggiunto in solamente un anno Quando ho visto la notifica Questo video ha raggiunto un milione di visualizzazioni Sono sentito veramente felice Perché ho fatto un video con un milione di visualizzazioni Un milione di persone sono tantissime Sì 18 kill Oddio Aiuto Che cazzo Uno kill Ho fatto uno kill Ho fatto uno kill su Fortnite Cosa ho fatto Cosa ho fatto Quanto è il replay Attenzione si se ne batte Oh ancora lui Sì Cosa In class finale Con una kill YouTube per me non è un lavoro ovviamente A tempo pieno Vado a scuola Quindi YouTube è un hobby Non so come mi evolverò Non so come il canale si evolverà D'ora in avanti Spero veramente di continuare con questo canale E di continuare a far crescere questa community Sì 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 Niente orecche! Niente orecchiano i carici che! Che coso! Pratici. Residente.